Il gruppo Carabinieri Forestali di Macerata ha predisposto un rafforzamento della sorveglianza nelle aree naturali maggiormente frequentate per la giornata di domani del 1 maggio e anche per le domeniche a seguire, con l'obiettivo di far trascorrere serenamente le giornate di festa a coloro che sceglieranno di trascorrerle nelle riserve, nei parchi regionali o nei boschi. Tale campagna preventiva resta principalmente volta alla sicurezza dei turisti e ad un uso responsabile e sostenibile del territorio, dove questo è più fragile, anche se ad oggi non si sono evidenziati episodi o criticità particolari per il senso civico dei turisti. In occasione del 1 maggio verrà aumentato il presidio delle aree protette, come la riserva naturale statale di Abbadia di Fiastra, la riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito e la riserva naturale regionale Montagna di Torricchio, mete turistiche che nei giorni festivi saranno massicciamente frequentate. Non saranno escluse le aree di grande frequentazione turistica, come i laghi di Polverina e Caccamo e le montagne del comprensorio sciistico Sassotetto-Santa Maria Maddalena. I servizi di vigilanza predisposti dai carabinieri forestali presteranno particolare attenzione a scoraggiare la sosta o il transito su ambienti naturali protetti dalla legge regionale numero 52-1974, ad impedire l'abbandono dei rifiuti ed in particolare a reprimere l'accensione sconsiderata dei fuochi da parte dei turisti al di fuori delle strutture predisposte. Si ricorda ai cittadini che il rispetto delle regole in materia è fondamentale per la tutela e la conservazione di luoghi che spesso vivono un delicato equilibrio, assai più semplice da conservare che ripristinare.